madre terra, che confusione qui dentro, altro che salone delle meraviglie, spa ASMR, questo sembra il salone delle voci sottofondo, ma secondo me non è rilassante per niente, ma forse avrei dovuto dare ascolto alle recensioni prima di presentare la mia candidatura qui, comunque speriamo che nessuno se ne lamenti, che poi non capisco, mi hanno lasciato da sola, perché visto che sono in prova, cioè come fanno a capire se vado bene o no? Non ci saranno mica le telecamere? Magari dietro allo specchio c'è qualcuno? C'è qualcuno lì? Ah, complottista, oggi mi sta bene questa accogciatura? Oh oh, mi arriva qualcuno? Salve, benvenuta nel nostro salone delle meraviglie ASMR, e cosa posso fare per lei? a un appuntamento? Ma con chi scusi? Con me? Oh, è impossibile, io sono la stagista, questo non lo devo dire, questo non lo devo dire, è la shampoo, lascia stare, comunque che cosa dovrebbe fare? Ah, ho un trattamento ai capelli, eh, certamente, ehm, sì, no, dicevo infatti per l'appunto che io sono la specialista di questo posto, quindi si può accomodare tranquillamente, certo, intanto io vado a prenderle una tazza di tè magari, mi dispiace, mi dispiace in realtà, non c'è il tè, pensavo mi dicesse di no, solitamente dico proprio questo perché nessuno dice di sia un tè, tutti si aspettano il caffè, come? no, non abbiamo neanche il caffè, eh, mi dispiace, mi ripete il suo nome per favore, ok, aspetti, mi lasci controllare, nell'agenda, questa è l'agenda del negozio, qui hanno segnato tutti, 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 gli appuntamenti, vediamo se c'è anche lei, che giorno è oggi? ah, sì, sì, vediamo, vediamo, vediamo ah, sì eh, infatti hanno segnato proprio il suo nome qui no? beh, farò del mio meglio dunque, eh, prego, si sieda sì sì, qui davanti aspetta aspetti, eh, l'aiuto ecco, si vede bene lo specchio? sì ma che fa i capelli, sono così così sani hai proprio sicuro di voler fare qualcosa? ah, ok bene allora, innanzitutto le metto la mantellina un piano di macchie eh, sì venga qui, no, no si sposti un pochino no, no, non è usata, è nuova, è nuova è, è nuova sì spazzoliamo spazzoliamo, spazzoliamo, spazzoliamo venga leggermente qui dietro però no il mio come è rigido questa spazzola legna questa è una delle migliori spazzole che esista nel commercio tra l'altro è l'unica che abbiamo in negozio eh questi? capelli? ah no, no, questi sono dei peli peli di maglione eh sì perché, so prima ci ho appoggiato al mio pullover il cashmere no, assia figuri disinfettiamo sempre tutti i nostri strumenti almeno credo mi scusi mi scusi cambiamo strumento, ok? il pettine il pettine in legno per non far male alla sua testa così delicata la basso un po' ecco ci siamo ecco ma le fa male anche così? scusi lei non li patti nei capelli a casa? eh sì, vede? sono piene di nodi ma comunque possiamo anche saltare questo passaggio dunque mi ha detto che vuole anche tagliarli ma sa io in realtà glielo sconsiglio perché è un taglio così bello questo è molto regolare perché deve rovinarli sono così belli i lunghi i capelli come dice? no, no, ma certamente io sono esperto nel taglio proprio per questo le consiglierei di non farlo ah, vuole farlo lo stesso? ok bene, allora abbiamo queste nuovissime forbici sono un po' diverse da quelle che usavamo in accare ma comunque è che non mi sembra il caso di fare un taglio scalato ecco ora però devo pareggiare di qua fantastico no, no, i capelli si tagliano ad asciutti almeno credo bene adesso passiamo alla decolorazione di che colore li vuole i capelli? ah, nero corvino bene allora devo un attimo organizzarmi nero corvino si questo questo è proprio proprio il nero ci sia poca differenza ci sia poca differenza le preparo alla miscela dobbiamo innanzitutto schiarire e poi ricolorare ecco qui che e poi mettiamo anche un po' di questo da volvere e poi un po' di questo da volvere un po' di balsamo e poi mi sembra che con la miscela si faccia proprio così ecco iniziamo a mescolare tutti insomma come ci ha trovati? ah non ho capito ah quindi lei ha un canale youtube? ah si si i suoi follower le hanno consigliato questo salone? ah certo ai follower non si comanda alcuni sono un po' cattivelli eh ah no lei ha una buona fanbase le vogliono bene insomma bene allora iniziamo facciamo tutto nel massimo rispetto all'igiene anche se questi guanti non mi sembrano proprio ad ottimo ehm si stiamo rinnovando un po' tutto qui stanno anche facendo nuove assunzioni infatti e guardi non so che cosa augurarvi sinceramente forse è meglio che non assumano proprio nessuno ma io la parte sopra non lo farei che dice? la vuole fare lo stesso? è perchè va a contatto con la cute non lo so eh sicuro si vabbè se lo dice lei se lo dice lei ok facciamo così la sai di ocegola? ecco qui ecco qui ecco l'accontentato abbiamo fatto anche tutta la parte superiore della testa più o meno ottimo ottimo poi un po' qui sulle ponte adesso adesso dobbiamo incappucciarla no no devo proprio incappucciarla eh si perchè con il calore la tintura dovrebbe fare effetto dovrebbe e già vedo che inizia a cambiare il colore ma guardi avevo dimenticato una giocca aspetti eh ecco qui ma no adesso vanno di moda questi questi colori non proprio uniformi no questi colori un po' particolari è vero? è vero? si che glielo dico a fare? eh insomma le signore un po' piace quelle che amano il colore piatto e lei quanti anni ha? ha 82? ma se li porta molto bene? eh certo mi scusi la curiosità ma che tipo di canale youtube ha? no ah lei ha 82 anni cioè di che cosa si occupa? ah di gaming ah fa anche le challenge bellissimo e come si chiama? la verrò a seguire sicuramente non vuole non vuole a me perdoni vabbè adesso allora la in cappuccio per bene benissimo mi tolgo i guanti e mi dica si sta rilassando in questo nostro fantastico salone ah ah era più rilassata prima di venire ok sì sì certamente ma guardi se lei ci lascia una recensione positiva insomma vedrò di non farle pagare questo trattamento la prego è molto importante che lei ci lascia una recensione positiva questo salone sta andando già a picco non mi assumeranno mai ah no no lasci stare ma comunque prima di andare al lavaggio vedremo già il risultato questo bel nero corvino ok allora vado via così può rilassarsi forse eccoci di nuovo controlliamo il risultato le sto facendo un massaggio non gradisce com'è complicata lei vediamo un po' beh in effetti è bellissimo è bellissimo questo colore le dona moltissimo ci sono dei riflessi nero 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 profondo più che nero corvino nero che dà un po' sull'argento e e sull'oro eh e di base comunque il suo colore naturale è rimasto quello che è ma questo dipende dal suo capello sì no non c'entra niente la mia tintura ma no non è anche la tecnica che ha utilizzato e questo è proprio il suo capello che di base è molto forte molto 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 forte e quindi per questo motivo il nero corvino si intravede ma non è non è totalmente uniforme ma sì come fa a non vederlo ma calcoli anche che qui c'è la luce del salone dall'alto che non rende assolutamente giustizia ma guardi 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 giro un po' la testa eh lo vede qui no qui qui ma poi anche dietro insomma c'è del nero corvino sì sì le punte ovviamente sono un po' più chiare ma poi gliel'avevo detto questo io sì la perdino e poi la porto all'avaggio mi scusi mi scusi mi scusi va bene ok ci rinuncio è libera è libera è libera di fare quello che vuole può anche lavarseli da sola i capelli tanto sa che le dico io qui non ci metto a piede non mi farò mai assumere da un salone di questo tipo innanzitutto salone delle meraviglie spa ASMR ma è pieno di rumori sottofondo e non è per nulla niente per niente e dico per niente rilassante in secondo luogo mettono me che sono una semplice stagista ora gliel'ho detto sono una stagista uscita appena appena dalla scuola altra ieri tra l'altro scuola per estetiste non per barrucchiari a fare lavori così complicati con clienti così esigenti come lei che oltretutto hanno dei canali youtube quindi sono anche delle fashion blogger non non va per me mi dispiace faccio quel che vuole prendo pure tutti i soldi dalla cassa tanto non la chiudono nemmeno ma ci saranno due euro in tutto sono dei poveracci questi e avevano ragione le recensioni bisogna sempre ascoltare le recensioni sempre 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 adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della ferigrew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte a te l'unico a te piacere a te piacere 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 Grazie a tutti.